Renzi ha più volte detto che non è un test su di lui ma i commenti del giorno dopo dicono Renzi ha perso, lei cosa ne pensa? Penso che se per Renzi valevano i voti delle europee come investitura alla presidenza del Consiglio allora dovrebbe valere la sconfitta alle regionali per lasciare la presidenza del Consiglio perché l'utilizzo dei due pesi e delle due misure di Renzi è qualcosa a cui siamo abituati ma che agli italiani non convince più. Ultima domanda, come ha visto Renzi e Orfini che giocano alla Playstation aspettando i risultati ieri sera al PD? Si sono visti i risultati per il PD, direi che l'immagine di loro che giocano alla Playstation poi ha avuto effettivamente una giusta prosecuzione con i risultati del PD particolarmente in Liguria.